Il decreto di delega fiscale con la definizione delle relative norme in materia di IMU è stata licenziata dal Parlamento solo il 5 maggio scorso. A partire da quella data le amministrazioni comunali avrebbero avuto la possibilità di disporre delle basi di dati certe per il calcolo quantomeno dell'acconto di giugno, visto che il saldo di dicembre dovrà ancora scontare una valutazione che il Governo farà in settembre per la conferma delle aliquote. Si tratta di un tempo del tutto insufficiente per noi, così come per i concessionari di riscossione per effettuare qualsiasi genere di comunicazione personalizzata a mezzo posta, che desse esatta concretezza ai cittadini dell'importo da versare. Così il sindaco di Brabruna Sibilla ha voluto replicare al difensore civico del Piemonte, che in un suo comunicato dell'aprile scorso aveva invitato i sindaci piemontesi a valutare attentamente la necessità di semplificare, razionalizzare e rendere meno onerosa per i cittadini la riscossione della nuova imposta IMU. Quando si parla di difficoltà di calcolo e compilazione dei modelli, rammento che ciò discende unicamente dalla normativa nazionale, non certo dalle norme di dettaglio di un'imposta che è tutto fuorché municipale propria, visto che peraltro, a differenza di quanto accadeva per l'ICI, il gettito sarà diviso tra comuni e Stato centrale. Ha puntualizzato ancora la prima cittadina, segnalando che nel comunicato viene fatta menzione alla possibilità di prevedere il versamento a mezzo MAV dell'imposta, ma ciò espressamente vietato dalla stessa normativa nazionale sull'IMU, che prevede unicamente riscossioni a mezzo di modello F24. A maggio e giugno la musica è protagonista a Brà con il Gandino Festival, saggi e concerti di fine anno del Civico Istituto Musicale della città della Zizzola. Durante i cinque appuntamenti, nella cornice barocca della Chiesa di Santa Chiara e nell'auditorium della Fondazione CRB, verrà presentato un vasto programma che spazia dalla musica classica a quella moderna, partendo da Rossini e Chopin, per arrivare fino a Lucio Battisti e Beyoncé. Dopo i primi appuntamenti del 22 e 25 maggio, martedì 29 maggio alle ore 21, si esibiranno nella Chiesa di Santa Chiara le classi di pianoforte dei professori Buffa, Bonardi e Patria, la classe di violino della professoressa Testa, la classe di coro e composizione del docente a Lione e quella di orchestra del professor Panicciari. Giovedì 31 maggio alle ore 21, presso l'auditorium CRB, sarà la volta della musica moderna, con le classi di chitarra ritmica, di batteria, di chitarra elettrica, di basso e di canto moderno. Ultimo appuntamento sabato 9 giugno, nuovamente nella Chiesa di Santa Chiara alle 21, con il concerto del gruppo Bra Bass, ovvero trombe, corni, tromboni e basso tuba, per un'esibizione che ripercorre la storia della musica, dal rinascimento al barocco, passando per il classicismo e il mero dramma, per arrivare al jazz del Novecento. Tutti i concerti sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti. L'evento è organizzato dal Civico Istituto Musicale Adolfo Gandino di Bra, in collaborazione con il Comune, la Fondazione Politeama Teatro del Piemonte, la Fondazione Cassa di Risparmio di Bra e l'Associazione Amici della Musica. Realizzare un cartone animato è un sogno che per tutti i bambini tra i 6 e i 11 anni sta per diventare realtà. Al Museo Civico di Archeologia di Palazzo Traversa di Bra, dal 2 al 6 luglio, si potranno scoprire la struttura e le sue collezioni, imparare le basi del linguaggio audiovisivo e dar sfogo alla fantasia creando un cartoon che verrà poi proiettato nell'ambito della rassegna estiva Il Cinema nei Quartieri. Sarà una vera e propria settimana al Museo, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30, con possibilità di pranzo al sacco con gli operatori e su richiesta flessibilità di entrata anticipata alle 8.30 e uscita alle 17.00. Durante i 5 giorni verranno effettuati i laboratori didattici alla scoperta di Palazzo Traversa e dei suoi tesori, un percorso di educazione audiovisiva, un'uscita in biblioteca per la ricerca iconografica, una lezione con un insegnante dell'Istituto Civico Musicale Gandino di Bra e un laboratorio di creazione del cartone animato, dalla storia al completamento della sceneggiatura, ai disegni dello sfondo e dei personaggi, all'animazione con la tecnica dello stop motion, alla creazione della colonna sonora, con la scelta della melodia da sonorizzare, la registrazione di musiche, suoni e voci.